È la prima donazione su blockchain ad un ospedale italiano. Oltre 500.000 euro sono stati investiti da Binance Charity per la realizzazione di tre nuovi ambulatori e una grande sala infusione del centro di nutrizione clinica del Policlinico Agostino Gemelli. I nuovi ambulatori, destinati a contrastare la malnutrizione in eccesso e in difetto, caratteristica di una serie di patologie tra cui obesità, tumori e malattie infammatorie, croniche intestinali, sono stati inaugurati in occasione del Nutrition Day del 9 novembre, la giornata internazionale dedicata all'alimentazione. Oggi è una giornata importantissima per la nutrizione clinica del Policlinico Agostino Gemelli RCCS perché inauguriamo un centro dedicato prevalentemente allo studio e all'assistenza per gli nostri pazienti alla malnutrizione. La malnutrizione che sta diventando una diffusa condizione clinica che impatta negativamente sull'outcome e quindi su quelli che sono i processi di cura soprattutto nei pazienti a grave rischio di malnutrizione che sono gli oncologici. Il nostro è un grande centro oncologico per cui questo centro servirà per supportare in tutti i modi la prosecuzione delle cure che la malnutrizione può interrompere per alterazioni dello stato nutrizionale che impediscono ai colleghi di operare, quindi di fare interventi chirurgici e di proseguire con le terapie oncologiche che oggi permettono una sopravvivenza lunghissima nella maggioranza dei casi grazie alle innovazioni che sono intervenute. Binance, fornitore di infrastrutture e servizi blockchain attivo a livello internazionale, ha effettuato la donazione tramite Binance Charity, la propria fondazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione di attività filantropiche. Assegnate anche quattro borse di studio destinate ai giovani study coordinator. Io ho scoperto oggi delle nozioni di cui non avevo veramente idea, di quanto la malnutrizione può essere determinante anche per la nascita di altre patologie, come curare altre patologie, quindi fondamentale per noi è stato un onore e un privilegio poter partecipare in questa occasione, quindi poter donare per lo sviluppo di quest'area, quindi fondamentale, e la ricerca anche. Una donazione trasparente, efficiente e tempestiva, con un processo interamente tracciabile, sicuro e immutabile.